L'Unione fa la forza soprattutto se i piccoli o medi comuni non riescono ad accedere a determinati bandi per risorse messe a disposizione dal Governo o dall'Europa. Nel caso specifico il Comune di Fano nel 2017 facendosi da capofila e aggregando i comuni di Mondolfo e Senigallia partecipò ad un bando per le risorse destinate alla mobilità sostenibile. È di questi giorni la notizia che si sono aggiudicati risorse per un milione di euro messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente a fronte di un progetto di 1.600.000 euro destinati ad incentivare la mobilità dolce ed in particolare ai trasferimenti casa lavoro e casa scuola. A Fano toccherà la fetta più grossa dell'importo 430.000 euro a cui verranno aggiunti 200.000 euro di risorse interne per completare con opere strutturali quell'azione di cucitura di percorsi e piste ciclabili già esistenti o realizzate che consentiranno di incrementare l'interconnessione di alcuni quartieri come San Lazzaro, Santorso e Poderino con il centro città o le scuole per i più piccoli anche ampliando le zone 30 già realizzate. È una quindi un'ulteriore risorsa che arriva per la città altre opere che arrivano per la città che proseguono anche un filo conduttore che è quello che ci siamo dati sin dall'inizio e oggi iniziamo a vedere anche i risultati di interventi per la mobilità sostenibile con un'attenzione alle cicliabili, ai marciapiedi, alla limitazione della velocità nei centri abitati che si uniscono ad altri progetti che abbiamo appaltato che stanno per partire. Diversi interventi inseriti nel progetto originario presentato al tempo come alcuni realizzati proprio a Santorso sono già stati cantierati o realizzati, pertanto ora si tratta di rimodulare il progetto e ripresentarlo al Ministero con restringimenti di carreggiata, attraversamenti pedonali rialzati e punti di snodo ed allargare anche le zone 30, innalzando così il tasso di vivibilità del quartiere. E tra l'altro a Santorso c'è in fase d'appalto insomma la ciclabile su via Soncino, quindi il progetto presentato due anni fa va rivisto e riaggiornato all'oggi, siamo d'accordo già con il Ministero che ci invierà una modulistica apposita per riaggiornare il progetto e questo non toglie che potremo aggiungere delle parti in più perché avendo realizzato già alcune parti del progetto di percorsi, casa scuola ne potremo aggiungere degli altri, stiamo studiando e ci dobbiamo mettere a tavolino e insomma tirarli fuori, però il progetto nel frattempo si è evoluto, noi per Santorso abbiamo un piano abbastanza completo quindi non abbiamo nessuna difficoltà a trovare nuovi percorsi da aggiungere.